Oggi siamo venuti a trovare le frac, si tratta di un'azienda che realizza borse di feltro. Vengo da una famiglia dove si è lavorato sempre tanto molto con le mani. Il mio bisnonno era un ebanista, lui costruiva le eliche in legno per la Breda, la compagnia di aerei. Mia nonna era una sarta, mia mamma stessa è una creativa tutto tondo. Abbiamo imparato come attraverso l'uso sapiente delle mani gli oggetti possono plasmarsi, prendere forma diversa. Le frac è un esempio tipico di Made in Italy, una grandissima qualità dei materiali, ricerca costante, continua attenzione anche al più piccolo dettaglio. Le frac che appunto nasce come progetto di famiglia, non fosse altro, anche il nome lo rende esplicito, no? Perché è il nome dei nostri figli, Leonardo Francesca Claudia. È veramente un esempio fantastico del Made in Italy. Sulla pelle c'è tanta competizione per il turno. Su dieci borse che io vendo, otto vanno negli Stati Uniti. Le frac però ha bisogno di qualcosa di più, ha bisogno di un aiuto per fare il passo successivo. Dobbiamo fare un lavoro di sicuro di riconoscibilità e poi cominciare a diffondere a tutto tondo, però questo lavoro di riconoscibilità è fondamentale. La mia ispirazione appunto è il design, l'arredamento di interni, il design, quindi comunque le linee molto semplici. Io quindi medierò tra le vostre esigenze e le vostre liste per fare un po' il matching e trovare una strada che è soddisfi da una parte e dall'altra. Quindi io appunto farò da mediatrice stavolta.